Mi chiamo Vincenzo Blefari e si venne da Ferrara e avevo la piorrea o la piorrea o avevo la piorrea in bocca e dovevo levare il forzo ai denti e qui in Moldavia abbiamo fatto tre preventivi perché ci hanno tirato questa qui, la travel to dentist con punto bianco perché non sono commerciali, sono persone molto umane che te la fanno sentire anche per telefono, addirittura se dovrei parlare del mio amico Pietro, dal 2005 siamo arrivati a 800 euro perché non doveva fare, gli hanno detto loro di non fare tutto questo lavoro, siamo andati a finire a 8,50 e poi addirittura è scesa ancora, non credo che in Italia si possa scendere come prezzi, credo che in Italia si aumentino, al di là di questo qui mi danno un libretto impianti e biomateriali che vuole dire che se io non voglio più venire qui, se voglio andare dall'altra parte a rifinire i miei denti posso benissimo andarci, basta che li presenti questo perché qui c'è tutto quello che mi hanno fatto in bocca, ecco credo che questo sia al di là delle persone, sia molto onestà perché non dicono venite per forza da noi, dicono andate dove vi pare ma se venite da noi ci fa piacere, queste sono le cose che mi hanno colpito di più.